Ho rivisto un po' tutto quello che era successo, quello che comunque avevo fatto e non mi sono sentita benissimo e mi sono chiesta perché, perché comunque è stata una reazione molto forte. Niente Maria, ho capito che io penso di essere una donna normale, quello che è successo a me è successo a tante persone e mi sono innamorata, altrimenti non avrei comunque reagito così. Mi dispiace, però... Ma non ti credo, ma non ti credo assolutamente, perché io te l'ho chiesto la scorsa settimana e avresti potuto dirlo la scorsa settimana. Adesso per giustificare quel gesto tu adesso mi stai dicendo questo. No, ma io non ti sto chiedendo di... No, ma non ti credo. No, no, io non sono qua per dirti che devi ripensarci, che devi ammorbidirti, tu puoi restare così come sei. Io sto dicendo questo più che altro per me perché voglio essere serena. Siccome io questa settimana non sono riuscita comunque ad andare avanti, perché comunque ti pensavo, no? Cioè, sono ancora arrabbiata, sono delusa per quello che è successo, però la rabbia è un sentimento forte quanto l'amore. Grazie. 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 Grazie.